I tassi di interesse ormai sono alle stelle, la situazione si è completamente ribaltata rispetto a quella a cui eravamo abituati nell'ultimo decennio. Nel 2022 le banche centrali hanno aumentato i tassi di riferimento per cercare di contrastare le conseguenze della situazione macroeconomica che stiamo vivendo. Il rialzo dei tassi quindi implicherà un aumento del costo del debito che andremo implicitamente a pagare noi come singoli, privati per quanto riguarda presidi oppure mutui, ma soprattutto le aziende. Cerchiamo quindi in questo video di fare un po' chiarezza, di riassumere quello che è successo, perché siamo arrivati a questa situazione in maniera così veloce e cosa potremmo aspettarci per i prossimi mesi. Ciao a tutti, ben ritrovati qua sul canale e ben ritrovati con un video a tema macroeconomia. Prima di iniziare ti invito a lasciare un bel mi piace qua sotto perché questo mi aiuterà a emergere nell'algoritmo di YouTube ma soprattutto mi motiverà a fare ancora nuovi video. E se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale schiacciando il tasto rosso qua sotto perché così non perderai gli aggiornamenti sui prossimi nuovi video. Partiamo dall'analisi della situazione. Nel 2022 di fatto tutte le banche centrali del mondo, d'eccezione della banca giapponese, hanno aumentato i tassi di interesse. In primis la Fed che ormai ha portato il tasso di riferimento base ad un valore superiore al 3%, ma anche in Europa non ce la stiamo abbassando benissimo perché dopo quasi dieci anni di tassi a zero in pochissime settimane la Fed ha rialzato i tassi fino all'1.25%. Come funziona quindi tutto il sistema finanziario che parte dalle banche centrali? Se questi decidono di alzare i tassi di interesse, a loro volta le banche commerciali avranno un costo maggiore che dovranno sostenere per prendere risorse in presito proprio dalla banca centrale. A loro volta quindi altro non faranno che aumentare i loro ricavi, ovvero i tassi di interesse a cui presteranno successivamente queste risorse, cioè a noi come singoli privati cittadini e alle imprese. Comprendere le dinamiche e le dirette conseguenze dei tassi di interesse è forse l'argomento principale che un investitore sui mercati dovrebbe conoscere. Perché le sue implicazioni e anche le piccole variazioni possono comunque avere un rilevante impatto su tutto il sistema economico finanziario. In questa storia, in maniera molto semplice, devi conoscere tre grandi tassi di interesse. Il tasso base di riferimento che è il tasso a cui la banca centrale presta risorse finanziarie alle varie banche locali. A loro volta le banche locali quindi oltre a finanziarsi presso la banca centrale possono farlo verso le altre banche scambiandosi liquidità a seconda di chi si trova in eccesso e che viene richiesta invece da chi si trova in difetto. Questo secondo tasso a cui le banche si scambiano la liquidità è il tasso reward. E il terzo tasso che devi conoscere è l'EurIRS. Ho detto anche in parole molto semplici l'IRS che non è altro che quel tasso a cui le banche sottoscrivono una sorta di derivato per passare da un finanziamento variabile ad uno fisso e viceversa. Perché questi due sono fondamentali da conoscere? Perché l'EurIRS e l'Euribor altro non fanno che determinare poi i finanziamenti che come singoli privati cittadini o come imprese chiediamo a nostra volta in prestito. L'IRS infatti determina quelli che sono i finanziamenti a tasso fisso e leggendo online spesso possiamo notare che una banca ci propone un finanziamento a tasso fisso finito ma che sotto di fatto si basa sull'IRS oppure una banca ci propone un mutuo ad un tasso IRS che ha una scadenza a seconda della durata del finanziamento che richiediamo più un eventuale piccolo spread. Nel momento in cui andiamo a firmare il finanziamento il tasso verrà quindi bloccato per tutta la durata proprio tenendo in considerazione dell'IRS in vigore in quel momento. Al contrario come tutti sappiamo nel momento in cui andiamo a sottoscrivere un finanziamento a tasso variabile questo sarà ancorato all'Euribor e in particolar modo all'Euribor con scadenza 3 mesi. Quindi conoscere e monitorare le variazioni di questi tassi ci fa capire quelli che sono i costi del credito che dovremmo sostenere nel caso in cui volessimo fare un qualsiasi tipo di finanziamento o di investimento. Perché siamo arrivati quindi a tutta questa situazione? E perché anche in maniera così veloce? Ricordiamoci infatti che venivamo da 10 anni di tassi a zero e eravamo ormai abituati a vivere con queste dinamiche macroeconomiche. Ma negli ultimi 12 mesi la cosa è completamente cambiata. Basti pensare che solamente 12 mesi fa, quindi l'estate del 2021, il governo Draghi aveva addirittura concesso delle ulteriori agevolazioni sulla concessione di prestiti per giovani, proprio per stimolare l'economia. Ad oggi invece il rialzo dei tassi di interesse ha un effetto proprio contrario, quello di rallentare l'economia, ma soprattutto rallentare l'inflazione che ormai ha raggiunto livelli veramente altissimi. Il monitoraggio dell'inflazione infatti è uno degli obiettivi principali, se non il principale, della Banca Centrale Europea che ha il compito di mantenerlo costante e leggermente inferiore al 2%. Capite quindi che in una situazione in cui ci stiamo ritrovando con un'inflazione altissima in tutto il mondo, l'obiettivo delle banche centrali è proprio quello di rallentare i finanziamenti, rallentare l'economia in modo che rallenti la domanda di beni e servizi e quindi l'inflazione possa piano piano rientrare in valori pressoché standard e normali. Ma perché l'inflazione è aumentata a tutto di colpo? Non è vero che l'inflazione è aumentata a causa del rialzo delle materie prime derivanti dalla guerra Russia-Ucraina. Questo è stato uno dei motivi che l'ha ulteriormente accelerata, ma dobbiamo andare a riscoprire le cause in un periodo leggermente precedente rispetto al conflitto europeo che stiamo vivendo. Già nell'estate del 2021 infatti potevamo osservare un leggero rialzo dell'inflazione dato da un eccesso della domanda rispetto all'offerta di beni e prodotti disponibili. Questo soprattutto si è avvalorato nel momento in cui i più grandi esportatori al mondo e fra tutti la Cina hanno deciso di ridurre le esportazioni esterne per cercare di favorire la domanda interna. La domanda infatti è aumentata notevolmente. Questo perché proprio venivamo da una situazione di bassi tassi di interesse in cui tutti avevano vantaggio a prendere credito per poter finanziare l'acquisto di una casa, per poter finanziare investimenti a livello strutturale, investimenti aziendale e così via. Così come a seguito delle problematiche create dal coronavirus moltissimi paesi e in primis anche l'Italia hanno deciso di introdurre delle agevolazioni fiscali per poter promuovere un rilancio economico e un rilancio dell'occupazione. Quindi basti pensare a tutte le agevolazioni di questi anni come bonus fiscali sull'acquisto, ristrutturazioni casa, bonus sulla cessione poi del credito e tante altre manovre che di fatto hanno stimolato troppo la domanda. A tutto questo poi siamo andati incontro anche ad un rallentamento dell'offerta che è proprio partito nel momento in cui ci sono stati nel 2020 i primi lockdown. Tutta questa catena di eventi quindi a partire dal 2020 ha creato un aumento della domanda, un aumento dei prezzi e un aumento quindi dell'inflazione. È importante poi conoscere anche le dinamiche tra rialzo dei tassi e implicazioni sulle obbligazioni. Nel momento infatti in cui rialzano i tassi per i cittadini e le imprese sarà meno vantaggioso andare a richiedere un finanziamento per fare investimenti oppure per comprare un immobile mentre vedranno di buon occhio l'utilizzo di quelle risorse che loro hanno a disposizione per poter magari utilizzarle per l'acquisto di un'obbligazione che da tassi praticamente nulli in questo momento stanno offrendo delle cedole piuttosto interessanti. Al contrario invece quando i tassi di interesse si abbassano nessuno ha l'incentivo ad andare ad investire in obbligazioni governative e quindi cercherà di far fronte a quelle risorse per poterle investire richiedendo finanziamenti proprio perché vantaggiosi ai vari istituti di credito. Tanto più alto quindi sarà il costo del credito e tanto meno saranno incentivati i cittadini e imprese ad andare a richiedere prestiti, ad investire nel settore immobiliare, a comprarsi una casa, a fare investimenti infabbricati, beni strumentali, a dare quindi lavoro al settore edilizio ma anche a tutto il settore manufatturiero e così piano piano si raffredderà l'economia. Guardiamo quindi qual è l'aggiornamento ad oggi, settembre del 2022, dei tre tassi che abbiamo prima elencato. Il tasso IRS come potete vedere rappresentato in questa tabella ormai è praticamente pari al 3% per tutte le differenti durate mentre in una situazione normale dovrebbe essere tanto più alto tanto maggiore è la durata della copertura finanziaria. Ricordo infatti che ancora a fine anno del 2021 questi tassi per scadenze di medio periodo erano ancora negativi. Passiamo poi ad analizzare il grafico dell'Euribor. Siamo arrivati in questo momento ad un Euribor a tre mesi superiore all'1%, tassi che non si vedevano dalla crisi finanziaria del 2021. E come possiamo vedere anche dai rialzi storici dal 2000 in poi, mai nessuno di questi forti rialzi ha avuto però un'intensità ed è stato così veloce quanto quello che stiamo vivendo adesso in queste settimane del 2022. Se si passa quindi a portali online dove si analizzano i mutui offerti dalle banche si può notare che per tassi di interesse fisso questi non scendono sotto il 3% per le durate di circa 20 anni e oscillano tra un 3% ma sono più vicini ad un 3.5% annuo per mutui della classica durata di 30 anni su un long to value dell'80%. Giro pagando online sono andato poi a controllare quello che è il pricing delle banche che viene offerto ai finanziamenti e alle imprese che sono ancora più importanti e soprattutto rilevanti rispetto ai mutui che noi come cittadini potremmo chiedere. Ci sono tantissimi finanziamenti particolari negli ultimi due anni che sono nati appunto per cercare di risollevare il mondo macroeconomico ma quello che vi mostro qua sullo schermo altro non è che un semplice finanziamento che ho trovato sul sito della banca Illimiti un finanziamento quindi normale senza alcuna seconda finalità dietro che come potete vedere ha un tag intorno al 5% ma quali sono quindi quelle aziende che riusciranno a utilizzare la leva finanziaria per poter poi investire in attività reali che potranno dare loro un rendimento superiore al 5-6% questo è particolarmente complicato e quindi un'azienda in questo momento potrebbe pensarci bene prima di sottoscrivere un nuovo finanziamento per poter supportare la crescita futura. Capite bene che in questa situazione nessuno è più incentivato a meno che non ci siano delle offerte particolari come mutui giovani oppure finanziamenti alle aziende per sostenere la crescita green e ISG e quindi molto probabilmente tutti rallenteranno la propria crescita e rallenteranno quindi la situazione macroeconomica che stiamo vivendo. In conclusione di questo video cerchiamo di capire dove potremo arrivare e quando potrebbe essere il picco massimo è stato ormai dichiarato quello che è il calendario delle prossime riunioni e delle proiezioni dei tassi di riferimento base delle banche centrali e sembra che il picco massimo lo potremo raggiungere intorno a maggio del 2023 Questa comunque è pur sempre una stima e la verità è che fino a che l'inflazione non verrà contenuta i tassi di interesse continueranno ad aumentare quindi richiedere in presto diventerà ancora più oneroso rispetto a quello che abbiamo appena visto nelle schermate precedenti Per quanto riguarda il tasso Oribor, quello che vi posso consigliare è l'utilizzo di questo sito per monitorare la situazione nei prossimi mesi perché è forse l'unico sito disponibile che voi potreste utilizzare per poter guardare le proiezioni dell'Oribor a tre mesi per i prossimi anni Ovviamente anche l'Oribor andrà di pari passo con l'inflazione e con il rialzo dei tassi di interesse È probabilmente uno degli anni peggiori di sempre a livello macroeconomico e potremmo anche fare un'altra considerazione Osservando il grafico dell'Oribor si nota infatti che nel corso della storia a seguito di forti rialzi poi sono seguite anche altrettanto vigorose discese Questo solitamente accade perché le banche centrali non riescono a passare da una situazione A o da una situazione B in maniera graduale e finiscono quindi per arrivare ad uno stato di recessione per cercare di rallentare un precedente stato di forte crescita Questa situazione potrebbe anche accadere nel 2023, nel 2024 Non lo sappiamo, sono semplicemente delle supposizioni Ecco perché comunque dovremmo monitorare sempre i tassi per cercare di approfittare di quella che è la situazione a livello economico finanziario o per rivedere la nostra asset allocation Io spero che questo video un po' più lungo, un po' più corposo ti sia piaciuto Ti invito ancora una volta a lasciare un bel mi piace per tutto il lavoro che stiamo facendo dietro questo canale e ti do appuntamento sempre qua per parlare di finanze personali, investimenti e mondo del lavoro Ciao, a presto!